La prima volta, il mio sbaglio è mio, perché mi ha interessato se mi faccio. Il mio sbaglio l'ha fatto tua madre e sono andata. Perché se ci tenia, com'era chiave, cercava. E lui ha saputo tutto questo. Staline. Tu hai documento? Se io nonostrò il mio documento, perché ti senti? Perché non mi ha fatto una cosa, anche tu fai un po' di scritto. Perché non mi ha fatto una cosa, mi ha fatto un po' di te? Perché me ha fatto una cosa, perché non mi ha fatto un po' di te? Mi ha fatto una cosa, mi ha fatto un po' di te? No, 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 no. No, 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 no.